Fonte romana di Pesco Sansonesco, antica fonte romana con mascheroni originali, ricostruita come dice qui la lapide nell'anno 1870 del Regno d'Italia. 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 Siamo diretti alle due cascate che confluiscono sotto Pesco Sansonesco. Il fosso della Buragna. Questa è la cascata della Buragna. Che viene dalla Monte di Chiudra Corniale a Rocca Tagliata. La lapide nell'anno 1870 del Regno d'Italia. La lapide nell'anno 1870 del Regno d'Italia. La lapide nell'anno 1980 del Regno d'Italia. Grazie a tutti. La passata della Buragna sotto Pesco Santonetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.